Nessun edificio ha registrato visivamente danni o lesioni e quanto riferisce il comune di Giulianova a seguito della ricondizione effettuata dagli uffici tecnici comunali sugli edifici scolastici nell'immediatezza del post-terremoto dello scorso 24 agosto. Anche se il territorio comunale giuliese è inserito nella zona sismica numero 3, cioè con pericolosità sismica molto bassa, ricordato l'assessore ai lavori pubblici Francesca Guerrucci, si sta effettuando l'adeguamento sismico degli edifici adibiti a scuole. Sono state impiegate somme considerevoli e sono in arrivo ulteriori finanziamenti regionali. In merito al complesso scolastico De Amicis, la prima fase, comunque migliorativa, sarà portata a termine il prossimo 6 settembre.